In culo, in culo me lo sono preso Ciao ragazzi, bentornati Non riesco, stavolta non riesco Bentornati in questo nuovo video Ok, ok Anche le leggende failano Però, prima di farvi vedere il mio fail Perché alla fine si capisce Ho failato di brutto Sto calmo Ho failato di brutto Però, la difesa è ancora più brutta Allora Honor 23 Ho già visto questo giocatore da qualche parte Sono andato nel clan Vedo Predator Predator, se mi stai guardando Picchami Picchami Picchami, come si chiama? Honor Da parte mia Potevi farmi, non dico Darmi 30% e arrenderti Ma farmi una stella Perché avevamo una differenza Colossare di coppe E... Mi ha sfondato Meno 28 coppe Meno 28 coppe Probabilmente nella sessione precedente Non questa Ora sto facendo ancora sessione Nella sessione precedente Di questo pomeriggio Avevo fatto 28 coppe E tu... Ti sto esprimendo Tutto il tutto Ma tutto il mio amore Per te Allora Vabbè Scialla A mettere le tesla E le bombe giganti A destra Perché di solito La gente attacca da destra Lui è stato fortunato Mainziga Mi ha attaccato da sinistra Mi ha devastato Mi ha asfaltato Mi ha... Arato in una miniera Perciò dopo Le andrò a fare anche visita Sto... Sto giocatore Allora Velocità Lo mette sui sui maghetti Suo golemino Che schizza via Come una saetta Re Barbaro Regina 40 Inizia La penetration Su di me Holler 23 Mi congratulo con te Mi hai penetrato Come si deve Perciò Sti cazzo Almeno 28 coppe Mi hai ributtato giù Già che giocavo Un pochino di meno Rispetto a prima Perché ho un progetto Da terminale E non ho tanto tempo Per giocare Tu Mi fai persino Ste cose Tipo era tutto Firo Si Prendo la prima stella Ma no Io le prendo anche La seconda stella E perciò è andato Avanti Avanti Ha fatto anche Percentuale Insomma Ci ha goduto Se stai guardando Questo video Scrivilo sotto Nei commenti Se ci hai goduto Quando mi stavi attaccando Mette anche Sparcamuro Perché vorrò Sparcarmi anche I muri Sto qua Guarda Holler Se ti becco In ricerca Sta attento Sta attento So che ora Mi offri poche copie Ma quando arrivi a leggenda Se ti becco Se ti becco Monello Allora Ho anche failato Purtroppo Ora sono sceso Nottevolmente Dalla classifica Non sono Vaffanculo L'ultima volta Ero trentottesimo Ora sono Sessantacinquesimo Ah si Comunque Sono clan Italian I'm Perché mi hanno Chiesto di venire Un attimo Perché dovevano fare Il record E sono venuto Da loro Allora Sono tra i primi Sessanta Mi brucia un po' Allora Vediamo quanto Manca per la prossima Stagione Allora ragazzi Mancano ancora Dieci giorni Per la fine Della stagione Di gennaio E io per la fine Di stagione Di gennaio Ho pensato Di arrivare Verso le 4 Eh si le 4.000 Le 4.000 Ciao Indietro Ho pensato Di arrivare Verso le 5.200 200 Se riuscivo Oh mio dio Sto giocatore qua Perché c'ha 14 difese 20 Brasil team Mamma mia Odio Sto difesa La odio Ragazzi Io in scalata Ho failato In totale Tre volte E questa Di oggi È la terza Volta Però Ho failato In passato Un'altra volta Contro questa Difesa Probabilmente Io tipo Tutto convinto Si lo penetro Lo penetro Ero entrato In alto A sinistra Però sto bastardo Se ne ha messo Le tesla Allora tutto Incazzato Ho fatto 49% Ho perso Va bene Tranquillo Sciallo Riparto In ricerca Trovo Lo stesso Fottuto Villaggio Ok Io l'ho detto Qua non mi culi Non mi culi Attacco Da basso Porta puttana Tutte le 4 tesla In basso Adesso Con le bombe giganti 48% E questa è la tipa 48% Mamma mia Mamma mia Mamma mia Questo sarà un video Schizzopatico Questo è un video Schizzopatico Cosa vuoi te Dopo mi schizza male Allora Ti rispondo dopo Allora ragazzi Ho perso Malissimo La difesa Mamma Ma sì Una difesa Un attacco Ma veramente Ho fatto un attacco Da schifo Allora Vi dico anche Perché ho perso Perché mi sono fatto Distrare Allora Ragazzi È una difesa Schelle Facile Facile Ho metto i miei capelli Ho mia Dea I miei capelli Era Era una difesa Facile 4 terremoto Spacco Di qua Così mi sono Aperto Mi sono aperto Mi sono aperto All'entrata Per entrare Al centro Del villaggio Purtroppo Qua ho fatto Un grave errore Il calcolo Perché ho visto In questo momento Ecco Sono uscite Le mongofiere E il drago Ho detto Devo distruggere Per forza Le truppe di difesa Se no Non entro Purtroppo Sono usciti Dall'alto E Prima di Ho messo Gli eroi In alto E perciò Si sono distanziati Notevolmente Dal town hall Era una cosa Che non ho calcolato Avevo pensato Che sarebbero scesi Tutti Esattamente Come il mio Re Barul Che è l'unico Che è ancora Con il cervello Invece Sta puttanella Sta puttanella E' andato Dall'altra parte E mi ha fatto Un bel giretto Io Quando stavo Toccando Ho detto No 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 Ho perso 35 coppe Ragazzi 35 Io Sto ridendo In questo episodio Perché Non ho voglia Di piangere Davanti alla telecamera Meno 35 Coppe Ok In questo episodio Non vi faccio vedere Gli attacchi in live Perché Sono impossibilitato Per farli Perché Per trovare un attacco in live Ci metto Dalle 4 Dalle 4 Alle 7 ore Ecco Questo solamente Quando sono in scudo Invece quando sono in guardia Personale Mi dura All'incirca 2 ore Essere una leggenda E' stancante E quando Feli Volano le madonne Insomma Devo tirare giù Dal paradiso Qualche santo Comunque Ragazzi Ho attaccato Uno dei giocatori Dei peccatori Per chi non conoscesse Questo clan E' probabilmente Uno dei clan Più vecchiotti Che esiste Su clash E' anche Uno dei più Cazzutelli Insomma Allora L'ultimo L'ex Detentore Del record Di YouTube Italia Era Paolo Rey Che sarebbe Ale i grandi Il mio grande amico Ha Ha Solamente 5.008 Coppe Si 5.058 Coppe Perciò Ale ti saluto Perché Abbiamo una Piccolissima Distanza Di coppe Naturalmente Non ti sto sfottendo Si lo sto facendo A parte scherzi Ragazzi Il mio migliore Di sempre 5.147 E devo Recuperarlo Assolutamente E sarà dura Ragazzi Vi faccio vedere Anche le differenze Di tempo Tra un attacco All'altro Allora L'inizio Della mia sessione E' stato Con Il giocatore Zehar Del clan Mega Usa Che l'ho fatto Quasi sette ore fa Invece Il secondo attacco Di questa sessione L'ho fatto Contro Luppetto Riccio Del clan I Peccatori 3 ore E 22 minuti fa Qua capito bene Che c'è una differenza Abissale Ogni volta che ricerco Mamma mia Quanto schizzo Io Quando sono in ricerca Mi chiedete Molto spesso Kai Ma cosa fai Durante la ricerca Guardi le nuvole No ragazzi Ovviamente Non guardo le nuvole Mi sono fatto L'abbonamento A Netflix Apposta E se no Che cazzo faccio Allora Guardiamo il replay Contro Luppetto Io di solito In scalata Se vedo Giocatori italiani E faccio solamente Una stella Ma non perché Proprio italiano Perché Dopo Dopo Mi becco un dislike In più Ecco insomma In questo caso Le ho fatto due stelle Perché Titano 2 Leggenda Perciò mi pagava Quasi zero E T'ho aperto Scusa Se t'ho aperto Però Avevo bisogno di coppie E mi ha aperto Un villaggio Dopo anni In questo caso Io ho terremotato Qua il quadrato centro E sono entrato Dentro Scialla Mi stavo cagando Adosso Quando sono usciti I maghetti E le streghe Perché le odio Perché io Non ho più La pozione Veleno Dato che uso Quattro Terremoto Perciò le streghe In qualche modo I miei eroi Dovevano distruggerle Per fortuna Avevo le streghe Al 3 E perciò Hanno dato tanto fastidio Alle streghe Avversarie E praticamente Mi hanno parato Il culo Dalla torre inferno Singola E la regina Degli accelli Dietro Tinga 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 Probabilmente Stava bussando La porta Del town hall Tac Toc Chi è Lupe Mangia i colori No È la regina 40 Che ti incula Tum Tango ho preso E avevo ancora L'abilità della regina Perciò Sciala Sciala Ho preso Due stelle Non dico Sciala 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 Ma Sciala Sciala Non era facilissimo Insomma Purtroppo Solo 6 coppe Perciò Ragazzi Il video di oggi Si conclude qua Purtroppo Che ci volete fare Anche le leggende Felano Ragazzi Purtroppo Ho felato anche un bel po' di coppe 35 Sto rosicando Anche ora Non sapete quanto sto Rosicando In questo momento Perciò Per questo video è tutto Spero che vi sia piaciuto Come al solito Like Commento Supportatevi Per questa serie Perché la prossima volta La prossima volta Almeno Devo arrivare A meno 5150 coppe E ragazzi Fidatevi Che Quella setantina Di coppe Non è facile Dovrei metterci In tre sessioni Fortunate Sculate Che mi apre Un villaggio Almeno Ogni tre ore Like Commento E Mettetemi Like Perché ho felato Dai ragazzi Supportatevi Devo fare barbone Dattemi un po' di like Alla prossima